La delocalizzazione del casello della 14 ma anche problematiche più in generale che riguardano il traffico soprattutto a Montesilvano e anche il prolungamento della variante Assessore Cozzi. Si è parlato di tutto questo in un incontro con il deputato del Movimento 5 Stelle Colletti e anche con altri due amministratori di importanti comuni dell'Interland, Cappelle sul Tavo e Città Sant'Angelo. Cosa è uscito fuori? Ma è uscito fuori quella di mettere in atto una strategia per andare nei tavoli che contano, cioè quelli del Ministero delle Infrastrutture e quello delle Autostrade con una proposta o anche più proposte ma che mette insieme le varie comunità. Non dobbiamo fare l'errore di presentarci divisi con logiche che non devono appartenerci, cioè di campanismo, perché parliamo di un tema molto molto serio che ha bisogno di tantissime risorse. Parliamo appunto del prolungamento dell'asse attrezzato, quindi della Galleria Pianacci per arrivare nella zona dell'autostrada. E nello stesso tempo del raddoppio della Galleria, quindi se noi ci presentiamo a questi tavoli divisi non otterremo nulla. Ringrazio l'Onorevole Colletti perché è stato sensibile e ha voluto ascoltarci. Credo che lo spirito con cui abbiamo affrontato questa riunione sia quello giusto. Nei prossimi giorni saremo continuamente al lavoro per arrivare con un progetto definitivo sia per le autostrade, perché ricordo il casello attuale non è a norma e ha bisogno di essere delocalizzato. Questo progetto deve essere visto nella sua interezza, cioè con l'asse attrezzato e con l'autostrada. Rispetto poi a Cappelle sul Tavo e a Città Sant'Angelo, a Montesilvano ci sono anche problemi che riguardano più in generale il traffico. Sì, diciamo che questa zona è stata, negli ultimi settimane, ha visto le opere dei due ponti che attraversano i salini e che ci hanno dato un grosso contributo. Purtroppo è assente la regione Abruzzo, poiché nel così tanto decantato progetto della Mare Monti è partito dalla collina. La Mare Monti dovrebbe partire dal mare. Siamo a buon punto perché abbiamo realizzato questo tratto della lungo fiume, ma è da lì che bisogna ripartire ed arrivare ai monti.